buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con i quick lab di emdemon oggi parliamo delle novità non di tutte le novità del 2022 ma della novità della 22 diciamo piccolo refuso partiamo in modo allegro sapete già diciamo è già stato annunciato più volte comunque è una novità effettivamente anche questa della 22 è morte diciamo con la 22 la versione 32 bit c'è all'anima sua la ricorderemo a lungo diciamo che ormai va beh operativi sono quelli recente diciamo soltanto 64 bit per cui ha senso andare avanti ormai proseguire su su questa strada ci sono in ancora delle versioni vecchie su sistemi operativi vecchi per esempio la settimana scorsa mi è capitato una richiesta di aggiornamento dalla versione 12 e questa settimana addirittura un aggiornamento della versione 11 su un server 2008 e va bene ho consigliato un paio di salti uno per rientrare alla 17 per rientrare nella fruibilità del supporto tecnico perché le versioni inferiori alla 17 non sono coperte e poi un salto successivo alla 21 5 qualcuno mi chiede ancora se ha senso i salti intermedi a tutte le versioni che si facciamo una volta diciamo no secondo me non ha più senso e uno diciamo un po partendo sempre dal fatto di avere un backup comunque per succedesse qualcosa di strano io consiglio comunque fare il saltone e poi al limite proprio andasse storto tutto ma è successo veramente allora si torna indietro magari si prova a fare quelli successivi quindi pace all'anima sua la versione 32 bit e andiamo avanti allora diciamo spulciato le release notes quelle che avete intravisto prima e ho estratto diciamo quelle che mail sono le informazioni forse più significative le novità più significative ci ho aggiunto qualche immagine per far capire diciamo permetterci qualcosa di mio per rendere più semplice diciamo dove sono nascoste le trovare dove sono nascoste le novità che poi andiamo a citare e però diciamo se per l'elenco completo si può diciamo analizzare le release notes che sono sul sito di altenne e magari diciamo trovate qualcosa che io non ho citato che a voi magari più significativo che a me sembrava non importante per voi invece lo è e dei bacchi che magari aspettavate che venissero corretti e lo sono stato allora in testa c'è la sezione informazioni speciali in cui hanno annunciato queste cose lunghezza minima delle password complesse l'hanno alzato a 8 caratteri per gli aggiornamenti e almeno 10 caratteri per le nuove installazioni questo non vuol dire che se in emedemon c'è qualcuno che ha la password di sei caratteri che era al minimo era configurato di default sino ad ora gli scade la password diciamo lui continuerà a lavorare nel momento in cui dovesse cambiare la password a quel punto subentra questa impostazione quindi quel punto dovrà sceglierne uno almeno di otto se una versione aggiornata e almeno i dieci noi stanzionano almeno otto perché sicuramente un aggiornamento se uno esisteva già una installazione 10 che forse diciamo il minimo ragionevole i 10 poi anche qualcuno numeri creati in più diciamo non fa schifo per renderla più difficile da indovinare poi non troverete più nelle varie sezioni dei menu le parole liste che sono state sostituiti da liste bianche liste nere sono stati sostituite da elenco consentiti e bloccati salvo magari che se lo siano dimenticato da qualche parte dove c'erano le esclusioni liste bianche che fanno esclusioni per esempio nel controllo spf c'è la lista bianca per escludere qualcuno dal controllo spf qui hanno sostituito con la voce elenco esentati e le liste bianche nere guai list di contatti che si vedono per esempio in work client e dovrebbero essere sostituiti committenti consentiti barra bloccati poi hanno introdotto il supporto al tls 1.3 sapete che diciamo adesso il minimo consigliato diciamo le versioni ssl 3.0 e vecchie sono sono vivamente sconsigliate tls 1.0 tls 1.1 anche loro sono deprecati perché diciamo sono una delle vulnerabilità lo standard attuale è il tls 1.2 per esempio i gestori di posta certificata richiedono quel tipo di connessione se no non ci si riesce a connettere ed è spuntato anche il tls 1.3 per cui i sistemi operativi più recenti ce l'hanno installato di default altri come cita qua come dice la nota windows 10 cose più vecchie c'è in versione sperimentale se quindi mi demolo lo supporta se viene richiesto nella comunicazione con delle applicazioni o con dei server di destinazione diciamo si può abilitare qui diciamo posso aggiungere se non lo conoscete questo tool che diciamo non si sa niente c'è un eseguibile che si è lanciato diciamo vi fa vedere quali protocolli sono attivi sulla macchina e ecco già qui predico male perché le mie macchine sono attivi anche quelli che ho sconsigliato che anche quelle cifrature diciamo che è facile poi anche disattivare diciamo si toglie il flag si riavvia la macchina e boh diciamo quindi anche comodo per gestire per vedere la situazione anche per fare delle modifiche allora riprendiamo le slide poi recentemente anche un mese fa forse qualcuno ha fatto girare qualche tool di verifica delle vulnerabilità di un serve di posta su emdemon ed era emerso tra le volumi diciamo che ha messo una vulnerabilità su questo editor che viene usato da work client o dalla remote admin e forse anche da tutte e due e vabbè era in cantiere già l'aggiornamento la vulnerabilità era nota per cui era in cantiere ed è stata rilasciata con questa versione quindi dovrebbe essere più sicuro magari uno dei prossimi webinar sarà magari far girare vedere come usare questi tool per fare la verifica di vulnerabilità di un emdemon poi modifiche che riguardano l'utente che possono migliorare quindi la user experience degli utenti nella gestione del work client l'utente adesso è consentito di cambiare il mittente delle risposte quando risponde un messaggio o quando inoltre un messaggio si può specificare un mittente quindi diverso da quello che diciamo in precedenza se potrebbe mettere predefinito uno unico adesso si può differenziare tra nuovi messaggi e risposte inoltre poi alcune modifiche riguardano si trovano solo se uno sta usando la versione pro questo vuol dire che probabilmente diciamo quasi sicuramente emdemon sta spingendo questa versione questo tema come diciamo il tema ottimale per lavorare con work client e perché magari diciamolo ci lavorano lo stanno sviluppando di più e è quello che magari si adatta meglio anche agli schermi poi dei tablet o dei telefoni quindi questa modifica per esempio la si trova solo nella versione pro non c'è nella versione work client o look out qui l'utente può gestirsi in autonomia agli alias del suo indirizzo prima lo poteva fare diciamo l'amministratore dalla guida emdemon adesso se lo può fare anche l'utente nelle opzioni a sezione componi c'è questo bottone c'è questo bottone se l'amministratore gli consente di farlo di default non lo vedete per abilitarlo bisogna andare per esempio nella remote admin andare in principale impostazioni web mail impostazioni e c'è questa flag questa opzione che di default è disabilitata password complesse abbiamo citato prima che il numero di caratteri è stato alzato a 8 o 10 che diciamo è di fatto una misura per aumentare la complessità e poi ci sono altri criteri diciamo storicamente ricordate che emdemon vuole che la password sia almeno di tot caratteri che abbia almeno un numero che abbia almeno una maiuscola che non contenga elementi dell'indirizzo email e adesso ci hanno aggiunto anche lo vediamo tra qualche slide l'obbligo se configurato diciamo di almeno un carattere speciale hanno aggiunto anche quello che si vede diciamo in tante applicazioni la barra che si colora man mano che la password che sta inserendo diventa sufficientemente complessa quindi in questo esempio diciamo nella sia nella nel work client nella web mail che nella web che nella remote administration quando uno inserisce una password c'è la barra che gli fa vedere quanto è sicuro quello che sta scrivendo e qui c'è diciamo dove è nascosta l'opzione per obbligare l'inserimento di un carattere speciale anche qua diciamo se uno abilita questa opzione non fa scadere le password che non hanno il carattere speciale attualmente non l'ho provato però è sempre stato così tutte le modifiche fatte alle password non sono retroattive abbiamo parlato di password in qualche quick lab forse l'anno scorso diciamo recentemente ma non recentissimamente sono state giunte altre fiature e il consiglio è quello sempre di ogni tanto magari di fare girare soprattutto sui server magari vecchi o pluridatati diciamo pluri aggiornati il report delle password per vedere quali utenti hanno password ritenute non sicure con gli standard attuali quindi alzate il livello delle password perché ormai proteggere gli account è una delle tante misure che è necessario fare per evitare poi attacchi backs, spare phishing, quelle cose che sono molto pericolose per le aziende quindi diciamo alzate e configurate la sezione di gestione delle password di mdaemon mettendo i criteri cercando di massimizzare i criteri di sicurezza poi fate girare il report delle password avrete un elenco su foglio exe degli utenti che non hanno le password conformi allo standard che avete deciso in quel momento quegli utenti andranno invitati a modificare prima possibile il loro password specificandogli quali sono i nuovi criteri da adottare sempre parlando di protezione e di accesso alla webmail e alla remote admin sapete ormai diciamo per entrare in tutte le applicazioni si scomoda sempre ormai si scomoda la factor authentication che diciamo per l'utente anche per me diciamo una rottura di scatole è sempre lì a generare questo codice però è così diciamo è un innalzamento del livello di sicurezza anche questo in questa versione la diciamo la to fight authentication esisteva già da mi ricordo da quale versione comunque era già presente per l'accesso ricordo solo web a mail e amministrazione remota hanno aggiunto in questa versione la possibilità se hai dimenticato il cellulare da qualche parte scarico con l'app che ti generava il codice c'è la possibilità di farselo mandare via mail ammesso che riesce nella mail perché poi è successo per esempio una mia collega che ha lasciato il cellulare a casa e quindi non potreva vedere la per accedere all'applicazione del crm aziendale non poteva generare che non vedere il codice e vabbè è detto clicca sul ricevelo via mail ma per entrare nella mail ci vuole un codice anche lì che aveva sul telefono quindi non è detto che poi si salvi se riesco a ottenere lo stesso quello che volevi nel suo caso poi vabbè abbiamo usato maestro quindi abbiamo fatto arrivare la mail e l'abbiamo letta sul maestro con un utente che poteva guardare la sua la sua posta alla fine si è riusciti a entrare dopo una ventina di minuti lottando siamo riusciti a entrare nella sua posta questa cos'è una lista di eccezione vabbè abbiamo innalzato il livello di sicurezza siamo italiani ma in realtà hanno fatto gli americani mettiamo un metodo per aggirare la cosa quindi se c'è la necessità che alcuni utenti che lavorano c'è determinati ip non gli venga richiesto l'obbligo di fare la to factor authentication hanno aggiunto la possibilità di venire richiesto hanno aggiunto la possibilità di escludere particolari ip dal contro dall'obbligo della to factor authentication nell'amministrazione remota questa impostazione si trova in queste sezioni indicate main web main settings to factor authentication queste erano modifiche già per l'amministratore questo per l'utente questo per l'amministratore e adesso andiamo avanti con le novità che riguardano l'amministratore di postmaster di dmdemo parliamo di firme nel content filter diciamo firme si possono mettere anche su quello c'era stato un webinar dedicato magari adesso c'è qualcosa di nuovo che non era incluso in quel webinar le firme le puoi mettere dal client di posta possono essere sostituite dalla firma di dominio possono essere sostituite con delle regole di content filter diciamo possono essere usate delle regole di content filter per mettere le firme in determinate condizioni quindi non per tutte le mail che escono ma sono in determinate condizioni in questa ultima possibilità che ho descritto velocemente diciamo hanno aggiunto la possibilità di mettere delle macro quindi se nella firma fatta con il content filter metto nome e cognome sotto forma di variabile sotto forma di microsoft quindi in realtà contact full name bisogna vedere se c'è anche first name e last name nell'enco delle macro se le supporta allora se nella rubrica aziendale quindi la cartella pubblica dei contatti il mittente della mail che è intercettato da quella regola ha un nome e un cognome la variabile viene risolta quindi quella parte con una firma diciamo personalizzata non generica nell'ambito del discorso sicurezza ci sono mille possibili non so quanti sono infiniti possibilità di attacco per un attaccante diciamo di abusare di un sistema e tant'è che diciamo l'evoluzione serve di posta diciamo riguarda più la lato sicurezza che non il core il lato core inviare e ricevere mail salvo diciamo quando cambiano innalzano i parametri di sicurezza per esempio sapete che microsoft sta facendo sconquassi disabilitando la basic authentication o il pop è successo nella settimana scorsa ci hanno disabilitato senza preavviso l'accesso pop alle cartelle dipartimentali e ha fatto un po' di caos e anche google diciamo sta innalzando i paletti per far accedere gli utenti o le applicazioni alle loro caselle di posta quindi sono mille sfaccettature della sicurezza o di attacchi che possono essere perpetrati nelle novità della 22 ho trovato questo supporto ai token csrf che onestamente non spero cosa fosse posso cercare su google e diciamo una tipologia di attacco per cui l'attaccante diciamo lavorando corrompendo diciamo il browser che stai utilizzando in questo caso mentre stai usando la webmail o l'amministrazione web nel caso di mdemo o in generale probabilmente quello che interessa di più quando magari stai accedendo al tuo sito bancario se in sessione hai fatto la login hai usato la true factor authentication avrei la password di 20 caratteri pensi di essere sicuro ma diciamo magari un virus ti ha modificato il browser per far sì che dopo che tu ti sei loggato e sei in sessione fa un'operazione a nome tuo diciamo validandola facendola partire dal tuo browser per cui viene validata e accettata perché è fatta nell'ambito di una sessione autenticata quindi c'è questo altro modo subdolo esiste per un attaccante di abusare di un utente e questa tecnologia serve per contrastare questo tipo di attacco è stata introdotta nella 22 e di default è disabilitata quindi se uno vuole abilitarla vuole alzare questo livello di sicurezza diciamo deve andare in questa sezione e abilitare questo flag poi sempre in termini di sicurezza qualche modifica che riguarda gli antivirus che sono due ricordate siren e clama V il siren se avete abilità se avete comprato diciamo una licenza con la brain protection valido del modulo antivirus hanno introdotto quella funzionità che hanno chiamato antivirus free to look up fretta non so come la pronuncia esatta e funziona un po' come se conoscete WebRoot come lavora come WebRoot diciamo c'è un file sospetto nel senso che non è noto nel controllo che l'antivirus fa basandosi sulle firme perché diciamo l'antivirus dm daemon siren è un antivirus basato diciamo con le tecnologie base degli antivirus con le firme con le tecnologie euristiche eccetera eccetera se un file diciamo il sospetto non lo sa giudicare allora può come fa WebRoot diciamo quando c'è qualcosa che non non sa calcola un hash univoco di quel messaggio va a interrogare via internet un database pubblico in questo caso di Siren passa l'hash e chiede se ne hanno già incontrato quel tipo di file e come lo giudicano e sulla base della risposta poi subenterà la classificazione della figlia della configurazione di m daemon quindi se il file è un virus che diciamo è spuntato recentemente un virus zero hour per cui magari le firme non erano ancora state aggiornate o dal produttore o scaricate da mdemo allora diciamo sulla base della risposta che è un virus diciamo che contiene un virus allora il messaggio viene messo in quarantena o diciamo strippato allegato a seconda delle configurazioni e il clam a V è stato aggiornato alla versione 0.104 non arriverà mai alla versione 1 strana notazione e qui il consiglio qual è vero gli antivirus vanno aggiornati per sempre diciamo periodicamente sempre quindi è opportuno questo è un punto a favore del fatto di avere mdemo aggiornato all'ultima versione se usi diciamo gli antivirus di mdemo è consigliabile averlo allineato all'ultima versione mdemo perché di conseguenza avrai anche l'ultima versione dei motori dei due antivirus e poi diciamo dovrai verificare la configurazione degli aggiornamenti e dai log magari che gli aggiornamenti avvengano con regolarità modifiche della gestione delle code ci sono due modifiche una è la possibilità di visualizzare come diciamo quello che si poteva fare dalla GUI di mdemo adesso lo si può fare anche dalla remote administration visto che stanno spingendo la remote administration qualcuno quando fa un aggiornamento alle versioni recenti o alla nuova la 22 quando lancia da programmi mdemo poi parte non parte più la GUI tradizionale ma tante volte parte l'amministrazione web e per cui stanno aggiungendo quello che manca nell'amministrazione web e hanno aggiunto la gestione delle code la seconda novità che potrebbe essere utile è quella che c'è scritta sotto le mail di replicolo le mail di summary che vengono inviate periodicamente da mdemo relativamente alle code adesso danno anche la possibilità attraverso dei link inseriti nella mail di poter fare la gestione delle code dalla mail invece che dovrei andare sulla GUI o dalla remote administration e spostare ripristinare cancellare i messaggi quindi diciamo una scorciatoia per lavorare il problema io avevo detto potrebbe essere utile perché secondo me tanti la maggior parte ha disabilitato l'invio di queste summary perché ne arrivano troppi ho visto spesse volte mi è stato chiesto come si fanno a disabilitare non ricevere le mail di summary potrebbe essere l'occasione magari per riabilitarlo sempre a livello di firme è stata introdotta anche la possibilità giusto per aumentare la possibilità di configurare firme e magari la confusione firme a livello di gruppo quindi può avere senso il fatto che i messaggi del gruppo dei mail che partono dal gruppo dei tecnici per esempio magari nell'ambito della funzionalità di ticketing che sapete diciamo se usate il ticketing mi arriva una mail a supporto e dietro ci stanno i 5 tecnici ai tecnici di ACAB che lavorano con il ticketing Luca Biffi prende in carico la mail risponde la mail in realtà non esce a nome di Luca Biffi esce a nome di supporto di nuovo in questo caso diciamo può avere senso una firma diversa dedicata al supporto tecnico quindi i tecnici sono inseriti nel gruppo dei tecnici e qui posso configurare come la firma di dominio stesso in modalità in formato testo in formato HTML una firma che verrà applicata quando la mail parte esce a un mittente che appartiene a questo gruppo un po' di migliori anche al buon ActiveSync migliorate le prestazioni in folder sync quindi dovrebbe essere diciamo più veloce la sincronizzazione che magari si percepisce più quando lavori con Outlook che non con i dispositivi immobili hanno migliorato diciamo qualcosa nel supporto alla versione 16 dei dispositivi iOS sì mi hanno segnalato alcuni ho qualche richiesta di questo tipo e quanto pare diciamo hanno fissato qualche problemino che c'era qualche incompatibilità che c'era tra la versione ActiveSync di Exchange ActiveSync di MDEMO che ricordiamo diciamo una versione di Microsoft proprietaria di Microsoft però è una versione fatta per le terze parti per cui non è esattamente la stessa versione dell'ActiveSync nativo per Exchange qui cosa volevo dire non mi ricordo più ah sì volevo ricordare che diciamo una questione sulle licenze che magari ogni tanto fa bene ricordare la licenza di MDEMON alla Braille Protection se scade diciamo MDEMON continua a funzionare ma non puoi più aggiornare le versioni che non sono coperte dalla Braille Protection stesso discorso per l'antivirus in realtà va bene vale la licenza di MDEMON perché adesso l'antivirus è inglobato nella licenza di MDEMON nel setup di MDEMON se scade la Braille Protection dell'antivirus non vengono più aggiornate le firme quindi se uno usa l'antivirus di MDEMON quello a pagamento diciamo deve rinnovare la licenza se no poi piano piano perde di efficacia l'outlook connector un problema che è successo recentemente diciamo l'outlook connector se scade la licenza puoi continuare all'usare ma non potrai diciamo aggiornare cioè in realtà si può aggiornare se è successo qualche settimana fa il cliente forse è quello che partiva con la 12 aveva anche l'autoconnetter molto datato in versione 2 o 3 e aggiornato MDEMON non gli ha detto niente però quando ha finito l'aggiornamento la licenza del connector ovviamente era scaduta aggiornato la parte server all'ultima versione perché il setup è incluso nel cosa però l'autoconnetter era disabilitato perché la licenza non era più compatibile con quella versione quindi anche qua prima di aggiornare è una versione ultima da sempre fare una verifica dello stato delle licenze nel caso della T-Sync se scade la Braille Protection il modulo continua a funzionare però non sono disponibili le funzionalità che vengono rilasciate in versioni non coperte dalla Braille Protection quindi se uno aveva un'installazione mi deve un 18 e la Braille Protection è scaduto era compatibile solo con la versione 18 e aggiornare 22 queste funzionalità qua diciamo non le non le ha a disposizione a disposizione diciamo la versione della T-Sync che c'era nella versione 18 quindi diciamo attenzione licenze c'era un po' di amenità per ciascuna tipo di licenza ok diciamo questo era il mio estratto di quello che ho trovato leggendole spulciando le release notes che ricordo diciamo se qualcuno non lo sa si trovano sul sito di Altenne questo andando in download vediamo mail server release note scegliendo la lingua che piace finisco diciamo quel solito stacchetto pubblicitario ricordo che abbiamo una community telegram per gli MSP dedicata diciamo a finalizzata non tanto a aprirci richieste di supporto tramite un altro canale ma diciamo aprire richieste di supporto non a noi ma altre MSP per cui diciamo confrontarsi sulle cose che si fanno nel mondo reale con altri partner che probabilmente fanno le stesse cose sul campo e quindi magari hanno anche più esperienza di noi e infine anche qua diciamo adesso mi è venuto in mente il discorso del fare il test della vulnerabilità di un Mdemo potrebbe essere l'argomento del prossimo Quick Lab se non me lo ficcano diciamo troppo vicino come data e se invece avete voi degli argomenti che non abbiamo ancora coperto e che sono interessano particolarmente proponeteli su questo link probabilmente l'ho trovato in Google cercando su Google ma comunque al termine del Quick Lab vi verrà mandate la registrazione e le slide della presentazione ok diciamo io finisco qua torno spero che ci siate ancora torno all'elenco delle domande guardo quelle che non avevo risposto fino a questo momento allora Marco chiede si potrà installare sulla versione Windows 11 Mdemo o la TLS 1.3 Mdemo probabilmente si diciamo nel sul sito ci sono anche oltre le RISNOTE ci sono anche i requisiti di sistema si trovano si trovano devo chiudere qua eh no sotto prodotti prodotto Mdemo ci sta e c'è i sistemi operativi diciamo storicamente Mdemo non ha mai avuto grossi problemi con i sistemi operativi adesso hanno messo la versione 64 bit per cui sono morti i sistemi operativi 32 ma erano molto obsoleti allora riapro le domande allora dove arrivato claudio allora tu fatto authentication quali app supporta google microsoft non so per avere un link esatto bisogna vedere se c'è scritto nella documentazione google e microsoft sicuramente altri non lo so dire diciamo io uso l'autenticator di google diciamo funziona domandina giulio come sempre consigli di aspettare le prossime versioni per l'aggiornamento ecco questa volta che non l'ho detto inizio sempre i miei quick lab così questa volta non l'ho detto qualcuno si è risentito in generale sì diciamo è la 22.0 diciamo è uscita e ha resistito abbastanza più lungo del solito probabilmente perché le modifiche le novità non hanno impattato delle parti diciamo critiche o non hanno non sono state necessarie troppe modifiche nel codice delle cose che già presenti quindi è nata abbastanza bene questa volta la 22 ha resistito un po' poi è uscita lo si vede nella storia possiamo anche vederlo nella cronostoria e dai la con questo i snorz buon italiano quindi è uscita il 17 maggio un po' in ritardo rispetto al solito diciamo attribulato è stato un parto un po' difficile perché di solito riesce a marzo aprile è uscita metà maggio però probabilmente è valsa la pena aspettare è stata stabile diciamo ha resistito per un mese no più di un mese un mese e mezzo la 22 01 è uscita il 5 luglio alcune versioni diciamo la 01 è uscita tre giorni dopo quindi è nata abbastanza bene quando è uscita la versione 01 è uscita subito dopo c'era un bacco grave nella gestione degli account per cui è uscita al volo è stata rilasciata una patch che poi è inserita nell'alpha che abbiamo visto prima quindi ormai diciamo secondo me se ci servono le funzionalità della che abbiamo descritto oggi diciamo secondo me si può aggiornare e vediamo non non ti rompe niente di particolare introdurci qualche bacchetto qua e lama niente di grave allora riapro le domande me ne sono perse dove sono finite domande mi scrivete qualcosa in chat così mi si apre la cosa delle domande ok sono riuscito a riaprirle in qualche modo allora domandine eravamo arrivati aggiornare da 32 a 64 bit mi ricordo bene che si dovrebbe poter fare direttamente senza problemi sì diciamo lo switch tra diciamo aggiornando una versione 32 con la versione 64 che peraltro è l'unica possibilità che hai adesso se passi per esempio da 18 a 32 a e mi diamo 22 non è necessario fare prima l'aggiornamento da 18 a 64 bit poi la 22 diciamo lo gestisce direttamente perché di fatto deve disinstallare tutte le volte che fa un aggiornamento normale in realtà disinstalla i servizi e li reinstalla compatibilmente alla versione per cui hai lanciato setup quindi anche aggiornando da 18 a 32 bit alla 22 a 64 di fatto disinstalla i servizi a 32 della 18 mi reinstalla a 64 della 22 modifica le chiavi di registro diciamo però lo fa lo gestisce in autonomia poi sono state attivate funzionalità per combattere le campagne massive di invio email con allegati protetti da password dove la password è nel corpo del messaggio allora nell'erisdotto mi sembra di aver visto nulla di questo tipo bisogna indagare se c'è qualche possibilità Claudio gentilmente mi apri visto che hai aperto due mail in queste settimane non c'è il due senza il tre aprimi un altro ticket verifico con altenne se c'è qualcosa o se comunque ce l'hanno in cantiere allora sempre Claudio campagne massive di email spam con email continua quella di prima si può cambiare sempre Claudio la lingua del console sul server non la web senza risalare questa sia una domanda inclusa in una di quelle mail che avevo mandato altenne mi ha risposto ma forse mi sono dimenticato di girarti anche a questa risposta vale quello che pensavo ovvero no l'unica possibilità è aggiornare Medemon con se stesso o con una versione successiva usando la lingua che ti interessa diciamo con cui ti interessa convertire la GUI quindi se mi ricordo se la tua GUI era in italiano e la vuoi riportare in inglese devi aggiornare se già tu hai la private cloud private cloud 905 installati in italiano devi lanciarci sopra la 95 in inglese fa un aggiornamento con se stesso però nella lingua che ti interessa non c'è modo di farlo diversamente altenne diciamo ha confermato che è così ok Claudio ha esaurito le domande se qualcun altro vuole competere grazie Claudio per le domande ok non ci sono altre domande sapete che comunque diciamo sempre altri canali se vi vengono successivamente quindi grazie per aver seguito questo Quick Lab e appuntamento al prossimo e mi raccomando fate qualche proposta di argomenti che vi interessa grazie e buon weekend a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti